Ciao, ancora un video, questa volta molto breve, per alcune comunicazioni. La prima, domani finirò di postare Solaris, che ho finito di leggere ovviamente, e lo troverete intero in 14 puntate, che corrispondono alle 14 parti, nella playlist dedicata appunto a Solaris. Quindi cercatelo nella playlist, se volete vederlo da principio, in successione e integralmente. Il giorno seguente comincerò a postare invece Padri e figli, di Turgenev, anche questo in lettura integrale. L'ho già letto e quindi lo posterò più o meno al ritmo di un video al giorno. Non so dirvi in quanti video sarà concentrato, ma non in tantissimi, penso una decina insomma. Comunque vedremo, forse qualcuno di più. Anche questo lo troverete in una playlist dedicata appunto a Padri e figli. Poi volevo invitarvi, se possibile, ad usare anche lo spazio community del canale, che vedo sto usando pochissimo e che purtroppo ho usato sempre poco anch'io, anche per scrivere magari quei commenti che non si riferiscono magari a un singolo video che voi avete visto, ma anche in cui esprimete dei giudizi generali sul canale. Se voi scrivete qualcosa qui, per me è più facile poi ritrovarlo e quindi anche magari, non so, o leggerlo oppure farne materiale per dei video anche, insomma, no, per comunicare oppure per rispondere a quesiti. Quindi se riusciamo ad usare lo spazio community per dialogare, per me va bene e mi farebbe piacere. Ho rimosso tutta la pubblicità che compariva all'interno dei video. Qualcuno ha osservato che era troppa, ho già detto che purtroppo era troppa perché avevo impostato la pubblicità e YouTube la metteva automaticamente. Ho cercato di rimuoverla tutta, a parte piccole eccezioni che riguardano video molto lunghi, di molte ore, insomma, in cui quello che rimane di pubblicità all'interno del video comunque è concentrato, è molto distanziato, alla distanza di un'ora, diciamo così, uno spot dall'altro. Quindi la pubblicità però sui racconti o su tutte le cose che durano mezz'ora, tre quarti d'ora, non dovrebbe esserci più. Se per caso la trovate segnalatemelo, perché io ho fatto una revisione globale, insomma, e mi sembra di essere riuscito a toglierla, ma non è detto che scappi qualcosa, perché il lavoro è lungo, insomma, ecco. I video sono tanti. Riferisco ancora una volta che, insomma, ho provato a fare questo canale in cui metto cose che avevo tolto e che si chiama Il peggio di me, insomma, un po' alla volta metterò dei video, insomma, che intanto che rivedo e li riposterò a quelli proprio, vabbè, insomma, i primi, in modo che si possa seguire anche un po' la storia, un po' del canale o della mia presenza su YouTube, ovviamente per chi è interessato a questa cosa qui. Se avete le proposte di lettura, insomma, da fare, di brani non eccessivamente lunghi, racconti, anche queste le potete fare qui, nello spazio Community. Mi trovate, come sapete, anche su Facebook, insomma, chi vuole mettersi in contatto con me, e questo succede, insomma, abbastanza frequentemente, ma lo dico anche qui, può chiedermi l'amicizia su Facebook e lì è possibile anche contattarsi direttamente, insomma, nel senso che è possibile usare la chat per quelle che sono delle questioni magari immediate, qualcuno chiede che gli si legga una poesia, un brano, qualcuno ti vuole parlare, qualcuno chiede delle informazioni, qualcuno vuole sapere delle notizie sul copyright, queste cose qui, possiamo usare anche la chat di Facebook e quindi potete chiedermi l'amicizia su Facebook. Io non adopero altri social, sempre su Facebook ci sono anche dei gruppi che ho creato, uno è l'ascolta libri e un altro sono i racconti di Maupassant, ma poi c'è anche qualcos'altro che però seguo poco perché faccio fatica a seguire questa attività. Se qualcuno invece avesse voglia di aiutarmi nella gestione di questi gruppi o di queste pagine, insomma, che ci sono su Facebook e che sono state create da me, ma poi gestite male, mi farebbe molto piacere se qualcuno avesse voglia di collaborare alla gestione di queste pagine, magari ad aiutarmi a farle andare avanti, sempre con la logica che non ho mai investito su queste cose qua, quindi, insomma, così, insomma, non avranno grandissimo successo, ma penso che possono essere delle cose comunque utili. Poi ho visto che alcune persone, insomma, anzi abbastanza parecchi di voi, mi seguono con una certa regolarità e quindi con coloro che sono interessati, insomma, cioè che mi seguono quasi quotidianamente, insomma, magari che si accorgono anche quando manco, mi piacerebbe anche stabilire un rapporto più stretto, insomma, avere una maggiore continuità, creare quello che si dice, non so, una comunità, un gruppo, non so come si chiamano, ma, insomma, sapere che ci sono delle persone che sono interessate anche alla vita del canale e che magari possono contribuire a dare vita iniziative al canale stesso, a migliorarlo, insomma, in continuazione. Siccome ho tolto la pubblicità, ho guardato, mi sono informato, perché qualcuno mi ha parlato di Patreon, di queste cose qua, non mi piace. Ho l'impressione che poi alla fine si riduca ad un meccanismo per tentare di far soldi e io non sono adatto né a vendere magliette né a vendere adesivi. Però avrei una proposta da farvi che non è una proposta economica. La proposta è questa, di creare comunque un qualcosa che ci, non dico che ci leghi, ma che ci unisca, insomma, e che faccia sentire quelli che sono più attaccati al canale, insomma, li faccia sentire più partecipi. Allora, io proporrei questa iniziativa per sapere chi ha interesse, insomma, a partecipare con maggior presenza alla vita del canale. Quello di fare una specie di tesseramento, mi raccomando, una volta sola, non ripetibile, non come Patreon che lo fa una volta al mese, eccetera, eccetera. Un tesseramento nel quale chiedo la somma di un euro, non di più, un euro, come donazione Paypal. Nel momento in cui voi versate un euro su Paypal, io ho la vostra mail e posso inserire la vostra mail in una mailing list e così, attraverso questa mailing list, io potrei raggiungervi, voi che siete interessati e che dimostrate l'attaccamento al canale, anche rinunciando ad un caffè. Quindi fate un piccolo sforzo che a me dimostra il fatto che ci sia l'intenzione, insomma, che significa un po' di più che semplicemente premere il bottone nel quale uno si iscrive e poi magari si dimentica di essere iscritto e non guarda più niente, o non ascolta più niente. Quindi una donazione Paypal di un euro, non di più, così chi dona un euro io so che lo fa con questa intenzione e so che lo considero come un tesserato di questa specie di associazione, di community che vogliamo provare a creare. Una volta che io ho questa mailing list, se gli uscirà a farla, Dio lo sa, io vi manderò attraverso queste mail, quindi potrò raggiungervi per via mail e vi potrò mandare dei link di video che magari non trovate su YouTube per vari motivi o perché magari sono stati postati su altre piattaforme o perché magari farò probabilmente dei podcast o perché ci sono dei problemi per cui non possono essere postati su YouTube o perché magari sono il frutto della collaborazione con altri canali e quindi sono postati in altri canali. Attraverso questa mail che vi posso mandare con questi link ma anche con la comunicazione eventualmente di iniziative, di situazioni nelle quali partecipo e nelle quali magari ci potremmo trovare, incontrare. Insomma potrebbe essere uno scambio anche generale, insomma fatto non individualmente ma con una popolazione più vasta e voi avete la possibilità di conoscere di più le iniziative che vengono fatte e anche di vedere video che magari non, o di sentire libri che magari non potete sentire stando su YouTube. E inoltre insomma sempre il discorso che potete proporre delle iniziative potete sviluppare delle idee che permettano di migliorare il canale e anche delle proposte di collaborazione, insomma tutto quello che può nascere nel momento in cui ci conosciamo anche meglio, non lo so, in cui ci sentiamo più comunità e non soltanto dei nickname così, insomma, che di per sé non dicono niente. Ringrazio chi ha fatto delle donazioni PayPal ovviamente sono servite anche per acquistare del materiale, insomma per cercare di migliorare e spero che si senta anche la qualità, insomma, audio anche del canale insomma per vari acquisti sempre legati, libri sempre legati all'attività del canale. Invito comunque ancora gli iscritti tutti ad usare di più questo spazio lo spazio community, insomma quello che trovate nella home del mio canale per comunicazioni di tutti i tipi, anche per proporre eventualmente letture, miglioramenti, insomma quello che ho già detto. Ecco, questo volevo dirvi e questo vi ho detto quindi vi auguro una buona notte e a risentirsi presto. Un saluto.